La polizia stradale di Cremona lancia l'appello per il rispetto delle regole, in particolare sul trasporto dei minori. L'incidente di Rivarolo del Re venerdì scorso è un esempio della pericolosità, dell'elusione e delle norme. L'altro giorno abbiamo rilevato questo incidente terribile, abbiamo visto addirittura tre elicotteri alzarsi da terra, ciascuno con a bordo un bambino. Tutti e tre i bambini purtroppo erano trasportati in maniera non regolare. Per questo ci sentiamo di richiamare ancora una volta i genitori. I bambini vanno sempre assicurati sul seggiolino auto a seconda del loro peso e della loro altezza, non con tal età. Veramente possiamo salvare loro la vita e dobbiamo salvare loro la vita. Sicurezza in primo piano nelle attività di pattuglia della polizia stradale che in questi primi due giorni della settimana si concentrano anche sul monitoraggio dei mezzi pesanti e dei trasporti eccezionali. Il mezzo caricato oltre i limiti di norma, oltre a eludere le regole della concorrenza, crea forte stress alle infrastrutture e rappresenta un pericolo per la circolazione. In questi due giorni, lunedì e martedì, abbiamo le pattuglie impegnate per un action day sul controllo dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità. Fatti di cronaca hanno riportato tristemente all'attenzione dell'opinione pubblica l'importanza del controllo di questi veicoli che sono fortemente impattanti sulle nostre infrastrutture. Non ultimo, l'impegno in questo tipo di controlli va a garantire e a tutelare la correttezza del regime di concorrenza. La sicurezza passa per altri controlli fondamentali. Nel 2018 sono state ben 319 le contestazioni per uso di telefoni cellulari e la guida, 807 per mancato uso delle cinture. A fronte di 707 incidenti sulle strade provinciali sono stati 19 quelli con esito mortali e 520 sono stati feriti. Altro nodo centrale è il controllo dello stato psicofisico di chi si mette alla guida. Lo scorso anno è partito l'utilizzo del drug test che a cadenza mensile viene effettuato sugli automobilisti nelle strade cremonesi, in particolare la notte. 301 le patenti ritirate per guida in stata debrezza lo scorso anno, 27 per uso di sostanze stupefacenti. Abbiamo messo in campo uno strumento nuovo che è il drug test. Questi accertamenti e questi controlli che abbiamo condotto durante l'arco di tutto l'anno 2018 ci hanno dato dei risultati purtroppo direi molto positivi e questi risultati positivi ci inducono a continuare anche per l'anno che è appena iniziato.